Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio, sulla FIPILIP, per il cantiere aperto per i lavori di manutenzione al viadotto del Turboni, in direzione mare un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, in direzione Firenze rallentamenti tra Montelupo e Ginestra. Chiusa per lavori l'uscita di Tirrenia, provenendo da Firenze. Su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla strada regionale 436 Francesca, senso unico alternato e restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 16 fino al 31 marzo. Morsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!